Sono Marilu Chiofalo, sono qui perché un miliardo di donne più una e magari anche un altro miliardo di uomini possono veramente muovere il mondo. Ciao, sono Stefania Rallo e sono qui per chiedere giustizia per ogni denuncia fatta. Sono Gueccio Riccardo, sono Presidente Nuovo Maschile e sono qui per dare una mano alle donne, per lottare contro la violenza alle donne e per sensibilizzare un po' anche gli uomini in modo tale che si possano dare un po' una mossa e fare qualcosa per aiutare le uomini. Io sono Giulia e sono qui per ballare contro la violenza. Sono Giovanna Zittiello, sono coordinatrice del centro antiviolenza della Casa della Donna di Pisa. Sono qua perché le donne vogliono giustizia. Giustizia non è soltanto giustizia nell'aula dei tribunali ma giustizia vuol dire non essere povere, potersi permettere una vita vera, una vita che segue i propri desideri. Grazie.